ciao a tutti e bentornati su questo nuovo video e benvenuti a tutti i nuovi iscritti oggi sono qui a parlarvi di nuovo di skin care coreana con i prodotti di yes style un brand che io devo dire da un po' già che ci collaboro e li adoro tutti i loro prodotti e tutto ciò che hanno sul loro sito è veramente veramente grandioso io li amo mi piacciono veramente tantissimo e adoro tutte le loro skin care tutti i loro prodotti oggi però parlerò della summer oil skin care quindi andiamo a parlare per una pulizia del viso per pelli grasse in estate allora loro mi hanno inviato sei prodotti come potete vedere sono questi qui dal detergente e tutti gli altri detergente tonico maschera crema siero e anche una protezione da 50 perché sappiamo che d'estate è bene proteggersi dai raggi uvi allora innanzitutto vi voglio lasciare subito subito il mio codice sconto che è già una ca 82 vi dà la possibilità di avere un ulteriore sconto sul loro sito e date un'occhiata al sito veramente perché hanno cose veramente fantastiche non non solo di skin care non solo di prodotti e cosmetica ma tante cosine sfiziose chi già mi segue sa che ha visto anche altri video su yes style comunque chiudo un attimino vi ricordo di iscrivervi sul mio canale attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sui miei nuovi video in uscita e se volete vi fa piacere lasciate un like sul porto del canale per voi un gesto gratuito e per me fa la differenza e mi fate crescere insieme a voi allora io vi lascerò subito dopo un video dove vi dimostrerò ogni singolo prodotto e vi farò una descrizione dettagliata e le andrò a provare direttamente sul sulla mano così che potete vedere anche voi sia la texture e sia il packaging che sono veramente carinissimi vi ripeto sono sei prodotti dal detergente e tutti gli altri prodotti di skin care è una skin care per pelli grasse e per soggetti con acne quindi io adesso vi lascio al mio video dove vi dimostro tutti i miei prodotti poi noi ci vediamo come sempre in questi soliti video per i saluti finali come primo prodotto come vi ho già detto vi mostro questo detergente al beta pantenolo gel detergente riparatore della sun by me questo detergente aiuta a bilanciare il livello del ph all'interno della pelle e a rafforzare la barriera cutanea grazie proprio al suo esclusivo complesso del beta pantenolo è privo di 20 tipi di ingredienti nocivi aiuta a controllare proprio l'olio e l'eccesso di sebo sulla pelle aiuta a proteggere e migliorare la barriera cutanea la sua texture si presenta in gel molto morbida che a contatto con l'acqua diventerà schiumogena erogare una quantità adeguata sulle mani bagnare e formare una schiuma massaggiare delicatamente questa schiuma sulla pelle e risciacquare con abbondante acqua come secondo prodotto vi propongo questo tonico ultralenitivo della derma firm un tonico dermatologicamente testato adatto per il tipo di pelle tendenzialmente acneico un toner con ingredienti minimi lenisce e riempie la pelle dopo una curata pulizia a un complesso tra azulene e aminoacidi per un effetto molto nutriente l'estratto di crusca di riso e il fermento di riso lasceranno la vostra pelle luminosa e rivitalizzata dopo una curata pulizia erogare una moderata quantità di toner su un batuffolo di cotone e strofinare delicatamente sul viso la sua texture si presenta liquida trasparente e molto assorbente come terzo prodotto vi mostro questa maschera lavante purificante all clean pink clay della amish è una maschera all'argilla rosa vegana e cursi free fornisce un effetto calmante istantaneo e cura del sebo della pelle contiene ingredienti lenitivi di origine vegetale come calamina al 7 per cento estratto di portulaca olera cea e acqua a mamelide rimuove le impurità e le cellule morte della pelle nei pori per una pelle più schiarita e sana la formula delicata non lascerà la pelle con un retrogusto teso quindi non sentirete al risciacquo la pelle che vi tirerà clinicamente testato per test di irritazione cutanea rende questo prodotto non irritante e adatto a tutti i tipi di pelle anche le più sensibili utilizzare dopo una detersione applicare su tutto il viso far lasciare per qualche minuto e risciacquare come quarto prodotto vi mostro questo siero e sfogliante liquido delicato alla centella della aru aru wonder questo siero e sfogliante delicato aiuta a rimuovere le impurità più ostruite nei pori contiene acqua di arancia certificata cosmos che offre abbondantemente vitamina c per illuminare la tua pelle formulato con centella per rinforzare la barriera cutanea e difendere la pelle adatto a tutti i tipi di pelle utilizzare dopo aver deterso e tonificato per bene la pelle come quinto e penultimo prodotto vi mostro questa crema calmante earth leaf di abib questa crema calmante va a offrire umidità per lenire l'irritazione della pelle contiene earth leaf che fornisce una delicata cura lenitiva alla vostra pelle e anche le più sensibili contiene pantenolo e allontoina per rinforzare la barriera cutanea e difende la pelle dagli stimolanti esterni in una morbida consistenza di sorbetto che può essere rapidamente assorbita con un finale di freschezza può essere utilizzata come finitura nella vostra routine quindi a pelle bella pulita dopo una maschera effettuare l'utilizzo di questa crema come sesto ed ultimo prodotto vi mostro questa crema solare della frudia a protezione 50 un'essenza solare idratante profonda con una protezione uv di spf 50 più pa più 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 aiuta a proteggere la pelle da raggi uv ogni giorno la sua texture ultraleggera fornisce una protezione uv di lunga durata senza lasciare alcun alone la formula delicata adatta per pelli più sensibili contiene triplo acido ialuronico per idratare in profondità la pelle secca privo di sei tipi di parabeni e coloranti artificiali superato il test di irritazione cutanea eccomi qui per i saluti finali e con i miei prodotti in mano alcuni li ho rimessi dentro per non farli comunque rovinare perché avendoli aperti cerco sempre di tenerli accuratamente comunque questi sono i prodotti che io ho preferito di più la la maschera ha una profumazione cioè vi ho già spiegato tutto ma è è fantastica e credo di provarla e di usarla veramente tanto perché mi ha colpito e anche il tonico devo dire che è detergente sono degli ottimi prodotti anche voi ditemi la vostra nei commenti quale prodotto vi ispira di più o se questo tipo di di skin care vi ha entusiasmato o comunque soffrite ecco di pelle grassa e acneica cosa dirvi io come sempre ringrazio yes style per farmi provare sempre questi fantastici prodotti e anche tanto altro adoro perché io la skin care mattina e sera non deve mai mancare sulla mia giornata è una cosa molto importante tenere pulita la pelle anche perché soprattutto in estate la pelle si sporca parecchio quindi vi consiglio di utilizzare i prodotti di skin care e la skin care coreana devo dire che ha veramente aperto una grande strada perché non la conoscevo prima nonostante sono nel campo dell'estetica da molti e molti anni però la skin care coreana è uscita dopo e ho avuto questa possibilità soprattutto con yes style di provarla e devo dire che è una delle ottime oltre anche ad altre però devo dire che i prodotti di yes style sono veramente molto validi vi ricordo sempre il mio codice sconto che è janaka82 vi dà la possibilità di avere un ulteriore sconto sul loro sito noi ci vediamo in un prossimo video vi saluto e ricordatevi di iscrivervi al mio canale attivate la campanellina e lasciate un like se questo video vi è piaciuto o comunque ha soddisfatto i vostri dubbi o comunque vi ha tenuto solo compagnia io vi ringrazio veramente tantissimo vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo ciao